Musica Ma è possibile che non riesca a trovare una mozzarella di bufala davvero buona Ma come? Non lo sai che da Farinelli Fresco Market la mozzarella di bufala arriva direttamente dalla campagna ogni mercoledì e venerdì Sempre freschissima Ah, dimenticavo è fatta con il latte nobile di bufala Infatti le bufale si nutrono esclusivamente di erba medica e foraggio al pascolo all'aperto Dove si trova questo negozio? Farinelli Fresco Market è a Santa Maria La Palma Grazie a tutti 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 Grazie a tutti